La nostra collettiva virtualmente è composta da oltre 200 opere di artisti italiani e stranieri. Si tratta di una collettiva ampia e diversificata in cui compluiscono soggetti e temi alquanto eterogenei. Essi sono eseguiti sia con tecniche tradizionali come l'olio, la tempera, l'acquarello, ma anche digitali, a conferma che lo strumento artistico è sempre in continua evoluzione. Questa collettiva propone dunque artisti che hanno uno stile personalissimo, capace di emozionare, perché in fondo dall'arte vogliamo proprio questo, emozione pura, al di là della tecnica, che è naturalmente lo strumento con il quale l'artista porta sulla tela, ma anche sul foglio o su altri supporti, anche di recupero, ciò che sente e ciò che intende esprimere. Naturalmente questo tipo di mostri virtuali durante il lungo periodo del lockdown hanno consolidato l'abitudine a fruire l'arte anche in questo modo. e naturalmente costituiscono una opportunità ulteriore per ammirare il genio, l'inventiva, l'ispirazione, come si diceva un tempo, di creativi davvero originali. A presto! A presto! A presto! Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.